ehi dico a te dedica 10 minuti la tua salute del tuo udito aspettare di non sentire acustica priulana via visinale 16 muzzana del turniano udine telefono 334 27 67 731 campagna di prevenzione dei problemi uditivi convenzioni con asl e inps garanzia assicurata non aspettare di non sentire acustica priulana vice governatore riccardi oggi ai giovani 18 anni lei lanciato un messaggio di speranza ma anche di responsabilità collegando il discorso della responsabilità a quello della vaccinazione sicuramente un appello alla responsabilità dei ragazzi che sono molto più maturi di quanto noi ogni tanto pensiamo vediamo una risposta importante dei giovani alla vaccinazione quindi mi sono soffermato su questo concetto perché è uno dei due pilastri sui quali noi vinceremo definitivamente questa pandemia dalla parte la protezione e i comportamenti precauzionali e dall'altra la prosecuzione della campagna vaccinale che a questo punto li vede protagonisti e io sono certo che la risposta sarà importante consentendoci in questo mese di giugno di dare quella svolta che giustamente ha richiamato nei suoi ultimi interventi di generale figliuolo giugno è il mese della verità e la verità si costruisce con i nostri comportamenti lei ha richiamato anche il discorso del Presidente della Repubblica il Presidente della Repubblica ci ha fatto una lezione importante ha ricordato i valori della Costituzione della Repubblica ha ricordato quegli anni decliniamo momenti diversi ma decliniamo la stessa intensità e la stessa necessità di ricostruire di ripartire con contesti diversi dinamiche diverse, un modello sociale diverso però noi siamo davanti ad una ricostruzione una ricostruzione complessa perché non è una ricostruzione materiale è soprattutto una ricostruzione immateriale per quello che la pandemia ha fatto nei nostri comportamenti e anche nelle nostre intimità e quindi ricostruire dipenderà da noi e io sono certo che questo paese ancora una volta ce la farà Claudin, locale per palati fini e buon gustai dove si mangia, si beve e si respira perda, collio e quai. Sono Claudio Azzano e vi aspetto con le mie specialità Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position Cosa aspettate? Salvare sul cuore Cosa aspettate? È in quella strada in corruzione Cosa aspettate? È in quella strada in corruzione Grazie.